benvenuti alla prima lezione del corso di storia contemporanea perché l'inno nazionale della fu unione sovietica ebbene perché oggi introdurremo la storia del novecento a partire da un'opera famosa il secolo breve dello storico britannico eric ops bon che fece epoca quando fu pubblicata nel 1995 un quarto di secolo fa e che ancora oggi è un libro di grande attualità perché ci consente di periodizzare il novecento appunto il cosiddetto secolo breve e di tracciarne le linee interpretative fondamentali ebbene abbiamo scelto di partire con l'inno dell'unione sovietica perché la tesi di fondo del libro di ops bon che il novecento corrisponda grosso modo alla storia dell'unione sovietica ovvero avrebbe avuto inizio nel 1914 con lo scoppio della prima guerra mondiale che avrebbe prodotto la famosa rivoluzione dell'ottobre del 1917 la rivoluzione russa per l'appunto e sarebbe venuto a conclusione tra il 1989 crollo del muro di berlino e il 1991 ovvero l'ultimo anno di esistenza dell'unione sovietica il secolo breve per l'appunto inizierebbe con la rivoluzione russa e finirebbe con la bandiera rossa con la falce del martello che viene ammainata dalla cima del cremlino dunque in queste due date in questi due momenti storici fondamentali sarebbe compresa secondo ops bon la storia del novecento la storia del cosiddetto secolo breve e questo è il storico ops bon britannico nato all'alessandria d'egitto nel 1917 e morto a londra nel 2012 quindi è scomparso da alcuni anni notare che la data di nascita di ops bon corrisponde a quella dell'unione sovietica quella della rivoluzione russa insomma la nascita dell'unione sovietica marxista ma non dogmatico non ortodosso quindi non allineato fondamentalmente storico dell'età moderna quindi ha scritto libri importanti sulla storia tra settecento e ottocento nell'ultima parte della sua vita si è interessato di studiare a fondo il novecento ed è appunto con la sua opera dedicata al novecento il secolo breve che intendiamo introdurre il nostro corso di storia contemporanea e questa è la periodizzazione di massima del secolo breve che ops bon per l'appunto vede tripartito in tre epoche distinte si tratta di una periodizzazione per così dire a sandwich il secolo breve compreso tra il 1914 lo scoppio della prima guerra mondiale e il 1991 la fine dell'unione sovietica per l'appunto la prima parte del secolo breve compresa tra il 1914 e il 1945 cioè tra l'inizio della grande guerra della prima guerra mondiale e la fine della seconda guerra mondiale viene definito da ops bon età della catastrofe in mezzo troviamo tra il 1945 e il 1973 la cosiddetta età dell'oro ovvero l'età del boom economico della ricostruzione dell'europa dopo la seconda guerra mondiale infine tra il 1973 e il 1991 troviamo un'altra età di crisi per così dire denominata da ops bon età della frana il sistema internazionale è quello che si basa sul bipolarismo cioè sulla contrapposizione tra stati uniti e unione sovietica inizia pian piano a franare cioè sta franando quel colosso con cui aveva avuto inizio il secolo breve ovvero l'unione sovietica quindi 1973 è l'anno della crisi del golfo quindi della della crisi del petrolio della crisi petrolifera dello shock petrolifero quindi un nuovo è un nuovo momento di crisi economica dalla quale l'unione sovietica sostanzialmente non si riprenderà e quindi verrà appunto a terminare la sua parabola di esistenza nel 1991 quindi età della catastrofe la prima parte del secolo breve al centro l'età dell'oro e in fondo in coda l'età della frana e nelle diapositive che seguono vedremo in breve a volo d'angelo i fatti più salienti del secolo breve proprio per supportare la tesi di ops bon dunque la prima età la cosiddetta l'età della catastrofe è compresa tra il 1914 e il 1945 un trentennio che è stato definito una sorta di guerra dei trent'anni a livello europeo anzi dall'europa in realtà la guerra questa sorta di guerra dei trent'anni novecentesca si è estesa al mondo intero ovvero le due guerre mondiali guerra dei trent'anni perché perché beh riprende quel modello che conosciamo della storia secentesca delle guerre di religione comprese tra il 1618 e il 1648 quelle che terminano con la pace di vestalia guerre terribili berre per l'appunto di religione la definizione e non appartiene in realtà ad ops bon ma un altro grande storico novecentesco nolte è uno storico tedesco uno dei padri del revisionismo storico della fine del novecento che appunto fa corrispondere questo periodo questo trentennio che corrisponde tucur all'età della catastrofe delle catastrofi e di cui parla ops bon ha una sorta di guerra civile mondiale questa guerra civile mondiale sarebbe nata secondo o secondo nolte secondo lo storiografo tedesco proprio con lo scoppio della rivoluzione russa e il venire ad essere dell'unione sovietica guerra civile mondiale durata appunto un trentennio e in parte conclusasi con la fine della seconda guerra mondiale ma poi proseguita nei decenni successivi con la guerra fredda quindi l'età della catastrofe per ops bon è comunque compresa tra queste due grandi queste due grandi guerre di fatto l'ottocento il secolo diciannovesimo sarebbe un secolo lungo per così dire in quanto le strutture politiche gli equilibri geopolitici complessivi a cominciare da quelli europei l'europa ancora alla fine dell'ottocento inizio del novecento è il centro del mondo della politica mondiale infatti si parla di eurocentrismo ovvero le decisioni che contano a livello mondiale vengono effettivamente prese nelle cancellerie delle principali capitali europee da londra a berlino a parigi a mosca o a san pietroburgo per l'esattezza è la capitale degli zara insomma il secolo diciannovesimo viene a tramontare entra in crisi nelle strutture del secolo diciannovesimo entrano in crisi proprio con lo scoppio della prima guerra mondiale alla fine della prima guerra mondiale il mondo non sarà più lo stesso non sarà più lo stesso perché beh perché al posto della russia zarista abbiamo l'unione sovietica abbiamo la russia comunista che da appunto il là al cosiddetto secolo breve secondo ops bon e sulle ceneri degli imperi multietnici transnazionali cioè quello asburgico quello mitteleuropeo asburgico e quello ottomano sono nati una serie di stati nazionali sia in europa orientale che nel vicino medio oriente che saranno poi protagonisti nei decenni successivi della storia novecentesca tra l'altro tra la prima e la seconda guerra mondiale abbiamo l'emergere di due nuovi protagonisti a livello mondiale gli stati uniti da una parte il ventesimo secolo è stato da alcuni storiografi anche definito il secolo degli stati uniti effettivamente quindi al venir meno dell'eurocentrismo alla calante potenza delle principali nazioni europee fa da contrattare l'emergere assolutamente prepotente sia dal punto di vista economico che dal punto di vista geopolitico degli stati uniti stati uniti che avranno come contraltare nella seconda metà del novecento avranno come contraltare per l'appunto la russia sovietica quindi dall'eurocentrismo plurale ovvero contraddistinto dal diciamo dallo scontro tra una pluralità di potenze la germania la gran bretania la francia la russia zarista ci saranno ci sono potenze di secondo livello per esempio la nostra italia no il regno d'italia o l'impero asburgico ammesso che lo si possa definire una potenza di secondo livello ecco tra questo concerto di potenze pian piano si andrà verso un mondo bipolare quindi caratterizzato da due super potenze che non avranno rivali a livello mondiale che si confronteranno in un lungo lunghissimo braccio di ferro che durerà tutta la seconda metà del cosiddetto secolo breve cioè dal 45 sostanzialmente al 1991 quindi l'età della catastrofe segna per l'appunto questo questo spostamento dell'asse geopolitico mondiale dall'europa alle due potenze quella atlantica degli stati uniti e quella continentale tra asia ed europa della russia sovietica ho scelto il famoso quadro di otto dicks un grande artista mitte l'europeo intitolato the dark world il mondo mondo scuro che descrive in maniera assolutamente espressiva l'orrore della prima guerra mondiale gli uomini che vengono trasformati in orrende caricature di loro stessi uomini che danno la morte una morte tecnologica brutale anonima di massa da altri uomini no è la tragedia della della trincea la trincea rappresenta come dire il simbolo sanguinoso orrendo osceno dell'inizio del ventesimo secolo del secolo breve la guerra più terribile che si sia mai verificata sulla faccia della terra la grande guerra un vero e proprio trauma a livello a livello mondiale che come dire spazzò via un'intera generazione un'intera generazione sotterrata nei tanti campi santi ancora presenti sia nelle regioni del fronte occidentale nella francia orientale e nord orientale per così dire o sui tanti campi di battaglia sparsi nel trentino nel friuli per esempio sui carpazzi nella polonia o nella ex russia sovietica i campi campi di battaglia che hanno visto perire un'intera generazione e quelli che si sono salvati hanno portato dentro di loro le stigmati per così dire di questa immensa tragedia immensa tragedia che poi senza soluzione di continuità darà luogo anche alla successiva alla successiva successivo atto della tragedia trentennale ovvero la seconda guerra mondiale se pensate che in due dei principali protagonisti della seconda guerra mondiale l'ex caporale di fanteria della fanteria bavarese adolf hitler e il sergente maggiore del reggio esercito benito mussolini saranno quelli che in qualche maniera inizieranno le ostilità per la seconda guerra mondiale non solo loro evidentemente gli altri grandi protagonisti della seconda guerra mondiale tra cui lo stesso Winston Churchill si erano già distinti nella prima guerra mondiale ma insomma un'intera generazione porterà questa questa stigma la seconda guerra mondiale sarà altrettanto terribile anche se alcuni orrori della prima guerra mondiale verranno ripetuti per esempio l'utilizzo dei gas dei gas asfissianti sui campi di battaglia la famosa fibrite che ti brucia i polmoni e ti fa attaccare le mani ti squama le mani sul calcio del fucile ti ammazza in maniera silenziosa lo dico perché nel quadro di Otto Dix vediamo questi soldati tedeschi con le maschere anticasa la maschera anticasa è un altro dei simboli della prima guerra mondiale con la seconda guerra mondiale invece contraddistinta da una tragedia diversa sicuramente peggiore per alcuni versi anche se qui comparare lascia veramente il tempo che trova ovvero la Shoah tutto inizia tutto inizia con i colpi di pistola esplosi da questo giovane serbo Gavrilo Princip è il 28 giugno del 1914 ci troviamo nella città bosniaca di Sarajevo che è stata annessa da alcuni anni nel 1908 dall'impero asburgico dall'impero austro-ungarico e a seguito di rimendicazioni nazionalista il nazionalismo è una delle malattie per così dire il nazionalismo degenerato che porta allo scoppio della prima guerra mondiale il nazionalismo lo ricordiamo brevemente era nato nel corso del diciannovesimo secolo e dunque il nazionalista esaltato Gavrilo Princip che fa parte di un gruppo di terroristi ecco oggi li definiremmo così anche all'epoca quindi vanno definiti così o patrioti dipende dai punti di vista dal punto di vista serbo evidentemente dei patrioti esplode colpi questi colpi di pistola contro l'automobile in cui si trova l'erede al trono Francesco Ferdinando l'erede al trono asburgico insieme alla moglie e con questo attentato il 28 giugno del 1914 si innesca per così dire quel countdown quel conto alla rovescia che porterà ai primi di agosto ovvero allo scoppio della grande guerra Gavrilo Princip morirà poi di malattia consunto da una malattia nelle carceri asburgiche ma non verrà condannato a morte ecco altra fotografia che ritrae appunto Franz Ferdinand l'erede al trono con la moglie prima dell'attentato pensate che l'attentato avviene in un certo senso per caso l'attentato voglio dire i colpi di pistola esplosi da Gavrilo Princip in realtà una serie di terroristi si erano appostati nei luoghi dove la macchina, il corteo del principe sarebbe transitato per una serie di motivi si cambia tragitto, meglio il primo tentativo di colpire il principe fallisce e viene tirato una bomba però esplode senza fare danni quindi si cambia tragitto, i terroristi se non stavano già mancando a casa si stavano allontanando dai luoghi dove si erano appostati proprio perché pensavano che ormai l'attentato fosse fallito quando invece cambiando il tragitto la macchina del principe si trova a pochi passi da Gavrilo Princip che esplode, si colpi di pistola che uccidono quasi sul colpo uccidono sul colpo la moglie e quasi sul colpo Franz Ferdinand che morirà poco dopo in ospedale in quest'altra fotografia l'arresto di Gavrilo Princip che viene condotto via, poi processato, ma ripeto non condannato a morte e qui la prima pagina del Corriere della Sera con la dichiarazione di guerra alla Serbia da parte dell'Austria quindi il sistema di alleanze che era nato alla vigilia della prima guerra mondiale che si era andato formando tra gli ultimi decenni del XIX secolo e il primo decennio del XX secolo insomma grossomodo dalla metà degli anni Ottanta fino appunto alla vigilia della prima guerra mondiale da una parte la triplice intesa che unisce in un'alleanza di mutua assistenza difensiva la Russia zarista con le due potenze diciamo liberal-democratiche la Francia e la Gran Bretagna si contrappone alla cosiddetta triplice alleanza anche questa piuttosto datata appunto risale all'inizio degli anni Ottanta, al 1882 che unisce in un'alleanza anche qui difensiva la Germania ex Bismarckiana, insomma il Reich, il secondo Reich tedesco all'impero austro-ungarico e all'Italia l'Italia evidentemente trattandosi di un'alleanza difensiva rimarrà fuori dalla guerra difensiva il trattato d'alleanza impegnava le potenze contraenti ad assistere le altre potenze alleate qualora fossero state aggredite da una potenza terza in questo caso siccome l'Austria-Ungheria ha a dichiarare guerra alla Serbia l'Austria-Ungheria impone alla Serbia delle condizioni terribili che vanno a violare la sua esistenza come nazione il suo orgoglio nazionale questo a proposito dell'attentato commesso da Gavilo Princip cioè praticamente la Serbia deve accettare che le indagini sugli attentatori siano svolte anche in territorio serbo dalla polizia austro-ungarica la Serbia oppone un netto rifiuto a queste condizioni e quindi l'Austria-Ungheria procede alla dichiarazione di guerra dopo aver pronunziato un ultimatum entrano rapidamente in azione le alleanze pregresse per cui la Russia zarista mobilita in funzione anti-austriaca a supporto della piccola Serbia, del piccolo stato serbo la Germania si pronuncia a favore dell'Austria-Ungheria e dunque la Francia in funzione anti-germanica soccorre per così dire la Russia e poi successivamente sempre nell'agosto primi di agosto del 1914 la Gran Bretagna dopo la violazione della neutralità del Belgio da parte delle truppe tedesche, delle avanzanti truppe tedesche dichiarerà guerra alla Germania in questa maniera attraverso una serie di eventi diplomatici prebellici che poi vedremo quando studieremo la prima guerra mondiale scoppia la prima guerra mondiale in questa maniera l'Europa e il mondo intero precipitano nell'inferno della grande guerra l'Italia per il momento, come sappiamo, rimane neutrale una neutralità che si prodarrà per un intero anno scolastico per così dire, per nove mesi e come sapete dopo un braccio di ferro tra i cosiddetti interventisti cioè quella parte di opinione pubblica che voleva impegnare l'Italia nella guerra e i neutralisti, ovvero quella parte anche qui molto ampia di opinione pubblica e di parlamentari che invece vedevano di cattivo occhio un impegno militare italiano nella grande guerra per una serie di motivi l'impreparazione in primo luogo e il fatto che la guerra avrebbe impegnato oltremodo le scarse risorse economiche e industriali del nostro paese ebbene, dopo questo braccio di ferro nel maggio, il 24 maggio per l'esattezza del 1915 l'Italia entrerà in guerra in una maniera anche piuttosto complessa, piuttosto intricata si parla di un vero e proprio colpo di Stato ordito dall'esecutivo e la sua maestà il re Vittorio Emanuele III ai danni del Parlamento insomma senza il consenso del Parlamento di fatto il governo procede a delle trattative segrete con gli alleati dell'intesa quindi si cambia schieramento si passa dalla triplice alleanza alla triplice intesa e metterà di fatto il Parlamento di fronte a una trattativa già conclusa quindi hanno un fatto concluso ma anche di questo parleremo in seguito andiamo un po' più veloci altra pagina del Corriere della Sera la guerra europea sta per scoppiare ultimatum tedesco alla Russia e alla Francia e anche qui si parla della neutralità dell'Italia quindi è una pagina del 1 agosto del 1914 quindi la guerra sta effettivamente per scoppiare quindi si passa da minacce a minacce ma nel frattempo gli eserciti europei avevano già mobilitato e avevano mobilitato in maniera super tecnologica a portare i soldati verso i campi di battaglia sono le famose tradotte militari i treni per organizzare, per mettere in moto questa macchina bella ci vogliono tempi piuttosto lunghi ecco perché le potenze che si erano già preparate ad un'eventuale guerra fanno scattare queste misure che poi è quasi impossibile terminare fermare per cui sono i militari a dire avere l'ultima parola piuttosto che i diplomatici altro personaggio chiave quindi all'interno della prima guerra mondiale come frutto necessario o indiscutibilmente necessario della prima guerra mondiale della grande guerra troviamo la rivoluzione la rivoluzione d'ottobre la rivoluzione russa uno degli slogan preferiti da Lenin Vladimir Uniano Lenin il padre della rivoluzione russa è indubbiamente quello via dalla guerra facciamo cessare questa guerra che è una guerra fondamentalmente di interessi capitalistici di contrapposti una guerra fatta dalla borghesia contro il proletariato per cui le masse che si scannano sui campi di battaglia e dovrebbero piuttosto rivolgere i loro fucili contro chi li manda a morire in maniera insensata e per fare gli interessi della grande industria questa in maniera estremamente succinta la tesi di Lenin e quindi lo slogan via dalla guerra è uno dei tanti slogan un altro slogan altrettanto famoso è tutto il potere ai soviet che sono poi le assemblee degli operai dei soldati ebbene si consumerà la rivoluzione russa più che altro il colpo di stato dell'ottobre del 1917 quindi non possiamo comprendere il 1917 la rivoluzione russa se non inserendola nella grande tragica vicenda della prima guerra mondiale ecco perché ambe due le tesi sia quella di Hobsbawm che fa iniziare effettivamente il secolo breve con il 1914 sia quella dello storiografo tedesco Nolte che lo fa iniziare invece con il 1917 cioè proprio con la nascita dell'Unione Sovietica sono diciamo ambe due esatte o comunque interscambiabili in questa fotografia vediamo l'assalto fotografia altrettanto celebre come la precedente l'assalto al palazzo d'inverno che si consuma appunto tra il 7 e l'8 novembre del 1917 e noi la conosciamo come rivoluzione d'ottobre noi in occidente perché come sapete i russi utilizzano il calendario giuliano che diciamo in anticipo rispetto al nostro calendario al calendario riformato quindi per noi la rivoluzione è effettivamente di novembre anche se la continuiamo a dire rivoluzione d'ottobre prendendo la dizione russa correttamente la dizione russa altro simbolo della tragedia dell'epoca della catastrofe di cui parla Hobsbaw è il famoso quadro di Picasso intitolato Garnica lo conoscete tutti probabilmente comunque lo studierete poi in storia dell'arte che è il simbolo stesso della guerra civile spagnola la guerra civile spagnola ha luogo tra il 1936 e il 1939 e anticipa sia per i motivi ideologici quindi la contrapposizione tra il fronte popolare di orientamento diciamo socialista anarchico assistito dall'unione sovietica e le milizie le falangi fasciste nazionaliste di Francisco Franco che poi sarà dittatore della Spagna fino alla morte appoggiate dall'Italia fascista appoggiate massicciamente dall'Italia fascista e dalla Germania nazista quindi c'è questo motivo ideologico e poi c'è anche il motivo del diciamo strategico militare il modo in cui viene condotta la guerra quindi a Garnica abbiamo il primo bombardamento il primo bombardamento sulla popolazione civile un bombardamento di prova condotto dalla legione Condor un reparto nazista un reparto della Germania nazista prestato alla Spagna franchista bombardamento lo viene fatto in maniera indiscriminata quindi il quadro di il quadro di Picasso ritrae il caos il disordine la confusione terrifica provocata dalle bombe tutto è sotto sopra tutto è risulta per così dire distorto in maniera lancinante i bombardamenti sulle popolazioni civili saranno poi una delle costanti una delle più tragiche costanti della seconda guerra mondiale progressivamente nel corso del secolo breve la guerra passerà dall'essere combattuta sui campi di battaglia da eserciti contrapposti come ancora avviene durante la grande guerra progressivamente passerà a colpire anche le popolazioni a coinvolgere anche le popolazioni civili e diventando guerra guerra totale guerra indiscriminata la linea del fronte perderà tutto sommato senso perché si combatte anche nelle retrovie cioè la guerra è dappertutto quindi guerra civile spagnola che diventa in un certo senso la guerra guerra civile mondiale per utilizzare l'espressione coniata da Eric Nolte uno storiografo tedesco di cui dicevamo prima i due personaggi che abbiamo citato poc'anzi ovvero Hitler e Mussolini Hitler a passeggio a Roma nel maggio 1938 giornata particolare 1938 ci stiamo avvicinando al ci stiamo avvicinando alla seconda guerra mondiale i due personaggi per il momento sembrano assolutamente vittoriosi Hitler è riuscito in maniera per il momento con alcune delle minacce o con una politica estera particolarmente avventurosa particolarmente rischiosa assolutamente revisionista rispetto alle condizioni imposte alla Germania sconfitta a Versailles è riuscita a recuperare una serie di territori persi nel 1938 abbiamo l'Anschluss l'annessione dell'Austria al Terzo Reich nonché l'occupazione dei sudeti e poi della Bohemia quindi con la fine con lo smembramento della Cieco-Slovacchia che era nata dopo la prima guerra mondiale sulle ceneri è una delle tante nazioni dell'Europa orientale nata sulle ceneri dell'impero asburgico a Monaco fa da pacere durante questo incontro al vertice tra Hitler e i delegati Chamberlain e Dalladier per la Gran Bretagna e la Francia Mussolini fa per così dire da pacere da terzo entro 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 certi termini perché l'Italia già dal 36 era unita alla Germania in un'alleanza per il momento difensiva che poi si entrava in un'alleanza aggressiva in realtà il cosiddetto asse Roma-Berlino che poi sarà confermato l'anno dopo nel 1939 sarà confermato come sapete dal famigerato patto d'acciaio nel 1938 ancora diciamo come dire le sorti arridono ai due dittatori una curiosità questa fotografia ritrae i due personaggi mentre si muove in automobile Hitler era giunto a Roma in treno dalla Germania naturalmente e per l'occasione era stata edificata in tutta fretta la stazione Ostiense se avete presente la stazione Ostiense in zona piramide vicino alla piramide Cestia a Roma ecco quella tipica architettura di epoca fascista più o meno magniloquente squadrata e così via con il piazzale il piazzale all'antistante ecco quella stazione è stata realizzata proprio per accogliere Hitler altro momento clou altra fotografia famosa la firma del patto Molotov-Ribbentrop del 23 agosto 1939 Molotov e Ribbentrop sono i due ministri degli esteri Molotov quello di Stalin della Russia sovietica Ribbentrop quello della Germania nazista che proprio alla vigia della seconda guerra mondiale suggellano questa questa alleanza del diavolo ecco cioè i due diavoli si uniscono in un'alleanza che darà avvio sostanzialmente alla seconda guerra mondiale con il patto Molotov-Ribbentrop prevista l'ennesima spartizione lo smembramento della Polonia la spartizione della Polonia che avrà luogo proprio nel settembre del 1939 le due grandi dittature i due grandi stati totalitari nati entrambi negli anni 30 quello di Stalin sulla scorta sull'onda lunga della rivoluzione bolshevica quindi dello stato fondato da Lennine e quello cancelleriano nato nel 1933 con l'ascesa al potere al cancellariato di Adolf Hitler il primo settembre del 39 lo dicevamo altra fotografia celebre scoppia la seconda guerra mondiana e anche qui i soldati tedeschi sono messi in posa la fotografia è stata scattata come tutte le fotografie famose del ventesimo secolo che riguardano la guerra sono state scattate a posteriori per ricordare celebrare un avvenimento post-quem la propaganda è nata in maniera clamorosa si è accompagnata lo sviluppo dei mass media negli anni 30 quindi la radio il cinema e anche la fotografia quindi tutte le più famose fotografie questa qui oppure vi ricorderete forse avete presente la famosa fotografia che vedremo in seguito del soldato russo che mette la bandiera sovietica sulle rovine di Berlino su un palazzo scheletrico ischeletrito dai bombardamenti a Berlino oppure i marines che a Ivo Gima tirano sulla bandiera statunitense sul monte appena conquistato nell'isola di Ivo Gima sono tutte fotografie fatte per la propaganda e scattate non sul momento ma in un secondo momento a beneficio appunto della propaganda quindi questa fotografia mostra i soldati tedeschi che rimuovono la sbarra una delle sbarre di confine tra il terzo Reich tra la Germania nazista e la Polonia altro momento clou della seconda guerra mondiale è senza dubbio l'inizio dell'operazione barbarossa il 22 giugno del 1941 che coinvolge l'Unione Sovietica fino a quel momento l'Unione Sovietica dopo la spartizione della Polonia si era tenuta al di fuori era riuscita a tenersi al di fuori della guerra riconquistando con una guerra diciamo tutta sua che per il momento non si era ancora mondializzata per così dire riconquistando le ex province dell'impero zarista cioè le repubbliche baltiche Estonia Lettonia e Lituania che erano diventate indipendenti al termine della prima guerra mondiale e dichiarando guerra alla Finlandia recuperando alcuni territori finnici ma ecco fino a quel momento l'Unione Sovietica non era stata ancora coinvolta direttamente l'espansionismo itleriano che del resto era dichiaratamente rivolto contro l'Unione Sovietica basta leggersi le pagine del Mein Kampf di Hitler redatto a metà degli anni venti l'operazione Barbarossa era per così dire inevitabile era comunque nei piani fondamentali della Germania nazista e con l'operazione Barbarossa inizia l'invasione dell'Unione Sovietica e si apre il cosiddetto fronte orientale che sarà probabilmente uno dei fronti più terribili della seconda guerra mondiale insieme a quello del Pacifico che vede contrapposti giapponesi e americani di questo parleremo naturalmente più in là nel proseguo dell'anno scolastico altro momento clou altra fotografia celebre il bombardamento di Pearl Harbor il 7 dicembre del 1941 l'attacco a sorpresa della della flotta della flotta navale aerea giapponese che colpisce proditoriamente la flotta statunitense all'ancora all'ancora di Pearl Harbor per l'appunto e con questo atto di guerra di creazione di guerra seguirà di qualche ora l'attacco vero e proprio quindi per questo l'opinione pubblica statunitense si infiammerà ecco di orgoglio patriottico e difensivista nei confronti dell'impero del Sol Levante ecco con questo attacco anche l'altro colosso quella che sarà poi la superpotenza che già è di fatto una superpotenza che lo diventerà esplicitamente ecco nella seconda metà del novecento gli Stati Uniti verrà coinvolta nella seconda guerra mondiale Auschwitz come dimenticarlo simbolo della Shoano che simbolo degli orrori del nichilismo della nientificazione dell'essere umano prodottasi nel corso della seconda guerra mondiale come effetto indubbiamente della guerra lungamente preparata dall'antisemitismo dal razzismo di cui parleremo parleremo ho scelto questa fotografia la trovo particolarmente espressiva oscenamente espressiva non ci sono i corpi le cataste dei corpi che attendono di essere arzi nei forni crematori dopo essere stati gassati ma ci sono le scarpe le migliaia milioni di paia di scarpe che i nazisti in qualche maniera riciclavano così come riciclavano in questa industria della morte i capelli dei prigionieri anche i loro vestiti e così via non si gettava nulla nell'oscena industria della morte nazista altro celebre scatto la conferenza di Yalta che si è svolta tra il 4 e l'11 febbraio del 1945 che vede i tre protagonisti che stanno per uscire vincitori dalla seconda guerra mondiale a sinistra Winston Churchill il premier britannico al centro della fotografia Franklin Delano Roosevelt il presidente degli Stati Uniti e a destra l'ospite a fare le veci dell'ospite Yalta si trova sul Mar Nero Stalin Yosef Stalin quindi Gran Bretagna Stati Uniti e Unione Sovietica anche se diciamo la Gran Bretagna dopo la seconda guerra mondiale pian piano passerà con il rango delle potenze di secondo livello il bipolarismo la marcia bipolare impressa la curvatura bipolare impressa la storia del mondo dopo la seconda guerra mondiale sarà dettata sarà battuta dall'Unione Sovietica quindi da Stalin e dal dal successore di Roosevelt Roosevelt troverà morirà nell'aprile del 45 successore di Roosevelt Truman quello che poi sgancerà ordinerà lo sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki insomma Yalta nel febbraio del 45 si decidono le sorti dell'Europa quindi la carta geopolitica dell'Europa del secondo dopoguerra nonché quella dell'intero mondo quindi è un momento clou altro momento clou altra fotografia celebre a cui ho già accennato la bandiera rossa che sventola sulle rovine di Berlino nell'aprile del 1945 il il Führer Adolf Hitler troverà la morte e suicida nel bunker della cancelleria i tedeschi continueranno a combattere casa per casa l'Unione Sovietica alla fine trionferà e poi altra celebre immagine quello che rimane di Hiroshima dopo l'esplosione della prima bomba atomica il 6 agosto del 1945 il 9 agosto tre giorni dopo ci sarà la tragica replica di Nagasaki la guerra è diventata ha prodotto questo ennesimo questo ulteriore orrore decine di migliaia di persone polverizzate impresse nei muri come fotogrammi come negativi di fotogrammi nel volgere di pochi secondi tutto viene raso al suolo l'umanità ha raggiunto un livello oltre il quale non si può effettivamente più spingere e da quel momento in poi in particolare nei decenni della guerra fredda l'intero pianeta vivrà nel terrore della guerra termonucleare globale quindi della fine dell'annientamento stesso della civiltà e del pianeta e con la fotografia di Hiroshima si chiude la prima parte del secolo breve secondo Hobsbawm quella della periodizzazione che abbiamo visto all'inizio della nostra esposizione e inizia la seconda parte del secolo breve la seconda parte che diciamo è il cuore del sandwich la prima fetta di pane terribile amarissima l'età delle catastrofi la seconda fetta di pane quella che chiude dal 1973 al 1991 è altrettanto amara ed indigesta in particolare per l'Unione Sovietica che viene a morire ecco nel 91 il contenuto invece è un contenuto decisamente dolce se mi passate questa espressione la cosiddetta età dell'oro 1946 1973 il boom economico in Europa occidentale ma anche la ricostruzione nei paesi dell'Europa orientale quelli sotto l'Unione Sovietica anche l'epoca della decolonizzazione ma noi la conosciamo come età dell'oro dal punto di vista eurocentrico dal punto di vista europeo dal punto di vista atlantico e anche l'epoca del cosiddetto welfare state che era già nato in via sperimentale in Gran Bretagna nel corso della seconda guerra mondiale che poi verrà diciamo sdoganato non solo in Gran Bretagna ma anche negli altri paesi europei nel secondo dopoguerra welfare state cioè impegno dello Stato impegno dello Stato nell'economia quindi sostegno alla società ridistribuzione del reddito attraverso la creazione del servizio sanitario nazionale un servizio sanitario pubblico degno di questo nome di scuole istruzione quindi obbligatoria e gratuita fino ai 13 anni poi in Italia verrà innalzata ai 13 anni poi è stata innalzata di recente fino ai 16 anni quindi istruzione gratuita per tutti e condizioni di lavoro decisamente più agevoli la giornata lavorativa di 8 ore il famoso articolo 18 del contratto dei lavoratori che in epoca renziana qualche anno fa è stato per così dire manomesso tutte queste conquiste sono figlie dell'età dell'oro nonché l'età dell'oro è caratterizzato dal boom economico quindi dalla nascita della società industriale che a pieno titolo cambia la vita di quelle masse che fino a quel momento erano rimaste escluse dalla società industriale un assaggio alla società industriale ce l'aveva già avuto il popolo americano negli anni 20 negli anni 30 adesso anche le popolazioni europee vivranno in una condizione decisamente più più confortevole quindi a lavare ci pensere la lavatrice non le nude braccia della lavandaia o della donna di casa i cibi verranno conservati in frigorifero e ci si sposterà in lambretta per andare al mare a fare le vacanze sono tutte nozioni tutte idee che nascono proprio nella cosiddetta età dell'oro del boom economico della ricostruzione l'altro simbolo ecco a parte le macchine posteggiate che vedete o la lambretta no la vespa e la lambretta che sono simboli proprio degli anni 50-60 in Italia in particolare ma non solo in Italia l'altro simbolo internazionale è il supermarket oggi che ce l'abbiamo presente tutti quanti di fatto il supermarket ha ucciso la piccola distribuzione commerciale il piccolo negozio commerciale la piccola bottega commerciale è diventato come dire il simbolo di un'epoca oggi non si parla nemmeno più di supermarket ma di ipermercato centro commerciale e così via famoso discorso di Churchill il 5 marzo del 46 Churchill poi perderà la premiership dopo la seconda guerra mondiale verrà mandato a casa dai cittadini britannici pronunzierà comunque il 5 marzo del 46 fare in tempo a pronunziare il discorso sulla cortina di ferro la cortina di ferro è il simbolo dell'inizio della cosiddetta guerra fredda la cortina di ferro è quella che separa l'Europa orientale quindi le nazioni che sono state conquistate dalle truppe staliniane nell'ultima fase della seconda guerra mondiale che quindi ora giacciono sotto il tallone stalinista e dalle libere potenze europee dall'Europa libera per così dire quella liberal democratica sotto legida degli Stati Uniti d'America e in parte della Gran Bretagna ecco la denuncia di di Churchill segna l'inizio della guerra fredda cioè gli alleati ieri gli alleati ho torto collo non volenti che non volevano essere alleati cioè Gran Bretagna e Stati Uniti da una parte con l'Unione Sovietica da quel momento in poi diventeranno nemici come lo erano già prima in qualche maniera quindi come dire la loro alleanza era provvisoria ed era giustificata dalla comune guerra anti-italiana ecco questa cartina segna brevemente così a colpo d'occhio la cortina di ferro la distinzione tra l'Europa libera o sedicente tale cioè i paesi della Nato quelli raccolti sotto l'alleanza guidata dagli Stati Uniti la Nato di cui avete senz'altro sentito parlare organizzazione che è ancora viva e vegeta anche se ha perso la sua funzione anti-sovietica ma continua a mantenere nei nostri giorni sicuramente una funzione anti-russa non più anti-sovietica ma sicuramente anti-russa dall'altra parte ci sono i paesi del cosiddetto patto di Varzavia cioè i paesi sotto legida dell'Unione Sovietica patto di Varzavia che è venuto ha esaurito la sua parabola storica è venuto a mancare con la fine dell'Unione Sovietica quindi un'Europa spaccata in due ma non è solo l'Europa essere spaccata in due lo vedremo poi successivamente ma è l'intero mondo per cui anche le potenze che stanno uscendo le ex colonie europee in frattempo si sta sviluppando il fenomeno della cosiddetta decolonizzazione beh dovranno necessariamente scegliere il campo il campo di schieramento cioè schierarsi o dalla parte degli Stati Uniti o dalla parte dell'Unione Sovietica e che abbiamo la nascita il primo ottobre del 1949 di un altro colosso mondiale va indubbiamente detto la Cina popolare il Mao Zedong termina la rivoluzione giunge a compimento la rivoluzione la rivoluzione cinese la rivoluzione comunista in Cina e sorge così un altro dei protagonisti della storia contemporanea sia della seconda metà del ventesimo secolo e in particolare di questo scorcio d'inizio del ventunesimo secolo anche se oggi parlare di scorcio è improprio sono passati vent'anni quindi siamo ampiamente inoltrati nel ventunesimo secolo e come tra i protagonisti del ventunesimo secolo indubbiamente non possiamo non citare la Cina altro volto conosciuto altra fotografia celebre del ventesimo secolo quella che ritrae Fidel Castro e Cechevara ai due volti della rivoluzione cubana del primo gennaio del 1959 Cechevara sarà una vera e propria icona del ventesimo secolo troverà la morte poi nel 1967 altro simbolo famoso il red phone la linea rossa il telefono rosso quello che mette in comunicazione diretta nell'epoca della guerra fredda mette in comunicazione diretta la la stanza la sala ovale del presidente degli Stati Uniti con il Cremlino e i due protagonisti che vedete in fotografia del momento clou diciamo della guerra fredda quello in cui si è andato più vicino alla guerra termonucleare globale all'epoca della crisi dei missili di Cuba i due protagonisti sono Kennedy e Khrushchev protagonisti di una guerra mancata grazie a Dio altrimenti non saremmo qui a fare alcun commento perché probabilmente la stessa umanità sarebbe stata spazzata via o la storia sarebbe stata ben diversa altro celebre scatto che ritrae Yuri Gagarin eroe dell'Unione Sovietica il primo uomo a viaggiare nello spazio e poi un uomo a vedere il pianeta dall'orbita terrestre quindi a dissipare diciamo i dubbi dei terrapiattisti anzi presunte conoscenze dogmatiche dei terrapiattisti il 12 apri 1961 è una fotografia storica e Gagarin eroe dell'Unione Sovietica perché in quel momento lì il momento della guerra fredda uno dei campi di battaglia a distanza di confronto a distanza tra le due superpotenze è appunto la conquista dello spazio prima dello spazio intorno al pianeta e poi successivamente della luna guerra che vedrà contrapposti l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti la celebre NASA e che verrà vinta anche qui dalla tecnologia statunitense gli americani saranno i primi a piantare forse lo vedremo in qualche diapositiva successiva a piantare la bandiera sul suolo lunare altro simbolo della guerra fredda non potevamo tralasciarlo il muro di Berlino costruito edificato nel breve volgere di una notte il 13 agosto del 1961 è crollato abbattuto anzi a colpi di piccone a colpi di martello dai berlinesi il 9 novembre del 1989 una delle date diciamo simbolo della fine della cosiddetta della guerra fredda e del cosiddetto secolo breve sempre seguendo la periodizzazione di Hobsbawm che vi ricordo stiamo seguendo per per sommi capi attraverso questi scatti più o meno celebri che ci portano a percorrere a volo d'angelo la storia novecentesca la guerra del Vietnam anche questa è una fotografia celeberrima la bambina che vedete nuda austionata dal napalm americano siamo in Vietnam la guerra del Vietnam è una delle guerre più celebri della seconda metà del novecento ed è il luogo dove la guerra fredda peraltro congelata sui fronti europei si accende con il napalm con questa sostanza arancione questo disserbante che viene gettato sulle foreste che ancora oggi ha prodotto di danni terribili e che ancora oggi inquina le foci del Mekong le giungle tra la Cambogia e il Vietnam ecco questa la guerra la guerra del Vietnam segna proprio il momento in cui si accende la guerra fredda di queste orride fiamme che ustionano donne e bambini e coinvolgono in maniera pesante la popolazione civile poi abbiamo la Iampala il monumento a Iampala che è il protagonista della primavera di Praga della rivolta di Praga contro l'Unione Sovietica il cui volto nonostante la destalnizzazione che prende avvio con Khrushchev dopo la morte di Stalin nel cui volto non rimane affatto umano la promessa di un socialismo da volto umano rimane per così dire disattesa e quindi la Russia sovietica continua ad essere di fatto stato totalitario dittatoriale e che le popolazioni conquistate nell'ultima fase della guerra mal digeriscono da qui nel clima tra 68 e 69 la rivolta questa rivoluzione culturale per alcuni versi ma non solo culturale che infiamma il mondo intero dagli Stati Uniti all'Europa occidentale ecco anche sulla scia di questa rivoluzione abbiamo il celebre episodio della primavera di Praga la rivolta di Praga che verrà soppressa dall'intervento dei carri armati sovietici Ian Park questo giovane praghese si si darà fuoco come un bonzo nella piazza piazza Venceslao a Praga il 20 luglio del 69 abbiamo l'allunaggio di cui dicevo prima l'orma lasciata da Armstrong Woodstock 1969 questa festa della musica quindi diciamo l'altra faccia in questo caso pacifica della rivoluzione culturale di cui accennavo a cui accennavo prima invece si 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 infiamma si infiamma e si colora di sangue a Praga e poi abbiamo ecco con questa diapositiva termina questo giro questo viaggio virtuale nella seconda parte del del secolo breve quindi l'età dell'oro che abbiamo visto è dell'oro per alcuni versi per via del boom economico ma presenta indubbiamente dei chiaroscuri decisamente accentuati con questa diapositiva chiudiamo la seconda parte e iniziamo la terza e ultima parte cosiddetta età della frana che inizia appunto con la crisi petrolifera del 1973 dopo l'ennesima guerra arabo-israeliana i principali produttori di petrolio venì sulla rabbia che contesta l'arabia saudita decidono di chiudere i rubinetti del petrolio alle potenze europee e non solo alle potenze europee quindi sorri no gas significa questo lo shock petrolifero che innesca diciamo una crisi economica piuttosto significativa tutto nasce ecco all'epoca della guerra del Kippur tra il 6 e il 25 ottobre 1973 la foto riconoscerete Moshe Dayan comandante delle truppe israeliane nonché illustre politico israeliano e Israele sconfiggerà più riprese gli eserciti arabi coalizzati l'aumento dei prezzi del petrolio potete osservare attraverso questa curva dell'andamento che segna con l'andamento l'impennata dei prezzi petroliferi la pagina la pagina principale del Corriere della Sera non stavo per dire la home page ma all'epoca internet ancora non esisteva quindi la pagina di apertura del Corriere della Sera mi ricordo che ero bambino era bellissimo dal punto di vista di un bambino si poteva circolare a targa alterne o meglio ci stavano delle domeniche in cui non si poteva circolare in macchina proprio per risparmiare benzina perché il petrolio era contingentato e dunque per noi bambini le strade delle città io stavo a Roma naturalmente diventavano degli immensi campi giochi in cui si poteva andare in bicicletta o giocare a pallone o andare con i pattini la vita era cambiata per via tutti le preoccupazioni erano ben altre evidentemente immaginate crisi economica disoccupazione inflazione eccetera eccetera una delle guerre che segna sostanzialmente la parabola discendente del lino della potenza sovietica cioè l'invasione sovietica dell'Afghanistan in questa guerra che dura un decennio che vede la sconfitta dell'armata rossa ma più che sconfitta militare o oltre la sconfitta militare la sconfitta politica dell'Unione sovietica e gli incontri tra questi due personaggi che avrete senz'altro riconosciuto questa fotografia è stata fatta a Richiavik in Islanda 11-12 ottobre 1986 e uno degli incontri tra Gorbachev il presidente dell'Unione sovietica alla sinistra e Ronald Reagan il presidente statunitense che sono i due protagonisti della cosiddetta epoca del disgelo cioè dell'avvicinamento tra Unione sovietica e Stati Uniti che segna ecco il disgelo visto che si parlava di guerra fredda di guerra congelata tra le due superpotenze iniziano a esserci degli accordi di distruzione progressiva o di limitazione delle armi di distruzione di massa anche se gli accordi non sono accordi alla pari perché l'Unione sovietica versa in una crisi si è avvitata in una crisi interna che la porterà sostanzialmente al crollo un crollo ecco che avviene per ragioni più che militari per ragioni ovviamente economiche per ragioni sistemiche quindi anche se i due personaggi sembrano collocarsi alla pari sembrano concordare una pace in realtà abbiamo dei vincitori e dei vinti a tutti gli effetti la guerra fredda ha prodotto dei vincitori dei vinti i vinti sono appunto quelli del blocco orientale dunque l'Unione Sovietica esce sconfitta dalla guerra fredda giù il muro di Berlino fotografia celebre i tedeschi orientali che prendono a picconare il muro il 9 novembre del 1989 è una giornata storica la riunificazione della Germania un anno dopo il 3 ottobre del 1990 si festeggia la fine in un certo senso la fine della seconda guerra mondiale o delle conseguenze che hanno state prodotte dalla seconda guerra mondiale cioè la separazione in due nazioni distinte che facevano parte dei due blocchi contrapposti delle due Germani la Germania la DDR la Germania democratica sotto legge dell'Unione Sovietica e quella la Repubblica federale tedesca anche qui la riunificazione della Germania non è una riunificazione alla pari ma sa tanto di annessione della parte orientale da parte della Germania federale della Germania di Helmut Kohl e c'era una volta l'Unione Sovietica ecco questa è la famosa fotografia scattata la notte di Natale del 1991 con la bandiera sovietica che viene ammainata dalla cima della cima del Cremlino con questa fotografia diciamo termina la rassegna fotografica con cui ho inteso ripercorrere a volo d'angelo il secolo ventesimo seguendo la periodizzazione di Oblbon che vi ho introdotto sin qui vi propongo ora brevemente un'altra chiave di lettura un'altra interpretazione quella di Paul Kennedy uno storiografo statunitense tratta da un celebre libro ormai datato ma che comunque all'epoca fu particolarmente prezioso accolto dalla comunità degli storici e non solo il 1989 ascese e declino delle grandi potenze Kennedy propone una sorta di secolo quadripartito ecco la chiave di lettura non è quella della rivoluzione russa e dei lunghi della lunga onda della rivoluzione russa cioè dell'Unione sovietica mi ricordate abbiamo iniziato con l'inno dell'Unione sovietica proprio per questo motivo per indicare lo spartiacque o il tradunion il light motive il motivo principale della storia del XX secolo secondo Osborne invece per Kennedy la chiave di lettura è l'ascesa e il declino delle grandi potenze ma alcuni concetti li ho già espressi li riprendo velocemente tra il 1885 e il 1914 quindi sullo scorcio della fine del XIX secolo all'inizio del XX secolo si può parlare indubbiamente di un pluralismo di potenze eurocentrico cioè le decisioni che contro il livello geopolitico globale le si prendono nelle cancellerie europee nel il periodo contraddistinto invece tra lo scoppio della prima guerra mondiale e la fine della seconda guerra mondiale quindi l'età delle catastrofi di Osborne è designato da Kennedy come crisi e declino delle potenze europee quindi le potenze europee entrano indubbiamente in crisi e pensate che durante la prima guerra mondiale abbiamo per la prima volta nella storia il sorpasso dal punto di vista economico degli Stati Uniti sull'Europa e non su questo quella potenza europea ma sull'Europa intesa in senso diciamo completo totale ovvero il PIL statunitense negli anni della prima guerra mondiale supera il PIL di tutte le potenze europee che si stanno scannando in questa sanguinosissima assurda grande guerra supera di gran lunga il PIL di tutte le potenze europee sia amici che nemici messe insieme quindi crisi e declino delle potenze europee emergere della potenza statunitense nonché di quella sovietica poi dal 46 e l'89 è definitivo crollo delle potenze europee che diventano potenze di secondo livello per esempio la Francia e la Gran Bretagna che pure annoveriamo tra le potenze vincitrici sulla seconda guerra mondiale impegnate poi nelle guerre di decolonizzazione che vedono smembrarsi i loro imperi mondialmente estesi questa terza epoca l'abbiamo già detto è nota come età del bipolarismo e poi abbiamo una quarta epoca si fa per dire questa è una mia aggiunta che è l'epoca della fine del bipolarismo cioè dal 1990 oggi sono passati 30 anni non è esattamente un minuto di quest'epoca si può scrivere indubbiamente la storia potremmo dire in breve che gli anni 90 e i primi anni del ventunesimo secolo sono stati caratterizzati da una sorta di monopolarismo a livello globale cioè quello degli Stati Uniti d'America l'unica superpotenza rimasta in campo e poi questo monopolarismo si è andato progressivamente sfaldando e articolando in una sorta di pluralismo di potenze a livello geopolitico oggi indubbiamente gli Stati Uniti continuano a essere una potenza di riferimento almeno sul piano tecnologico e militare ma non possiamo trascurare emergente ma ormai come dire dichiarata emersa non più emergente ma emersa potenza cinese e in futuro probabilmente si parlerà cinese con verrà a studiare il cinese piuttosto che l'inglese ma c'è poi la Russia di Putin con la sua politica espansionista neoimperiale più altre potenze regionali dall'Iran pensate poi ai cosiddetti paesi BRICS Brasile Russia la già citata Russia Putin l'India insieme alla Cina e il Sud Africa quindi in breve riassumiamo velocemente quelli che sono i caratteri generali del secolo breve a modo di sintesi finale nella fotografia l'avrete riconosciuto Charlie Chaplin nel famoso film Il Dittatore una fotografia come dire anche questa celeberrima il film è una denuncia del regime totalitario nazista nonché un inno alla pace un film meraviglioso vi consiglio di rivederlo di vederlo se non l'avete mai visto allora i caratteri fondamentali sono fortissimo aumento demografico indubbiamente la popolazione passa da 1 miliardo e 800 milioni all'inizio del XX secolo a 6 miliardi di persone alla fine del del novecento oggi siamo arrivati quasi a 7 miliardi e mezzo se non vado errato andiamo verso gli 8 miliardi di di uomini c'è qualcuno che dice che intorno al 2050 si arriverà a 10 miliardi ma vedremo insomma quindi aumento demografico ecco si parla indubbiamente di società di massa un grado di istruzione della popolazione è enormemente più alto rispetto all'altre epoche altro effetto della massificazione anche se a guardarci intorno questo elevato grado di istruzione più che altro l'università ecologica non è detto che abbia prodotto necessariamente un grado di civiltà maggiore e non parlo delle guerre del XX secolo terribili guerre del XX secolo ma della situazione in cui versa la nostra società il nostro pianeta anche quindi anno domini 2020 e il XX secolo è anche caratterizzato da un progresso tecnologico senza pari insomma pensate che praticamente dall'invenzione del treno dalle prime ferrovie a metà dell'Ottocento un secolo dopo sostanzialmente l'umanità colonizza la Luna mette il piede sulla Luna e pensate che i primi missili i primi esperimenti missilistici vengono condotti verso la fine della seconda guerra mondiale da Von Braun un ingegnere nazista al servizio del terzo Reich che poi verrà catturato e reclutato dagli americani per portare i missili delle missioni Apollo sulla Luna per l'appunto quindi un progresso tecnologico senza pari di cui vediamo anche gli effetti positivi pensate alla scoperta della penicellina sempre Fleming siamo sempre verso la fine degli anni 40 la fine della seconda guerra mondiale tra 44 45 poi la penicellina l'antibatterico fondamentale l'aumento l'amiglioramento delle condizioni igieniche a livello globale l'acqua corrente il fatto di potersi lavare le mani tutto questo ha allungato la migliore alimentazione ha allungato indubbiamente la vita l'età media no? altra caratteristica il secolo in assoluto più sanguinario non lo commento nemmeno visto che abbiamo iniziato la rassegna di fotografie con il quadro I8 di X e abbiamo visto i scenari più apocalittici che si potevano vedere i Hoshima Auschwitz e così via un deciso minor grado di civiltà ecco rispetto all'Ottocento il modo in cui si combattono le guerre la guerra totale indubbiamente segna indubbiamente un deficit di civiltà rispetto all'Ottocento che è comunque un secolo assolutamente in cui non si combattono guerre ideologiche in cui non si combattono guerre dagli esiti così sanguinosi e soprattutto in cui le popolazioni civile non vengono se non marginalmente coinvolte nei conflitti quindi un grado maggiore di istruzione non significa lo dicevo prima necessariamente un grado maggiore di civiltà la fine dell'eurocentrismo lo abbiamo già commentato beh oggi la storia non la si può raccontare a partire dall'Europa anche la nostra visione storica anche il modo in cui sono articolati i programmi storici e anche gli studi da me poi con tutti all'università vanno rivisitati attraverso uno studio lungo tutta la vita life learning lifelong learning come dicono gli americani perché non basta inquadrare la storia del pianeta a partire dall'Europa in particolare dall'Europa occidentale bisogna inquadrarla o integrare questo punto di vista prendendo in esame la storia della Cina tanto per fare un esempio il continente africano e così via oggi la storia è sicuramente una storia plurale non capiremmo quello che avviene qui da noi o quello che avviene in Europa senza prendere in considerazione quello che avviene a Pechino piuttosto che quello che avviene a San Paolo Rio de Janeiro in Brasile o Johannesburg in Sud Africa eccetera eccetera lo sta dimostrando in maniera eclatante la pandemia che giustamente è un fenomeno globale quindi fine dell'eurocentrismo è globalizzazione nascita del cosiddetto villaggio globale l'espressione è stata coniata dal sociologo canabese McClure nel 1962 era e oggi termine assolutamente significativo anche se questo villaggio globale come stanno a testimoniare i social network penetrato a fondo nella sfera privata ci ha individualizzato ulteriormente e ha finito con il mettere in crisi gli spazi pubblici e quell'idea di comunità che ancora fino a qualche decennio fa la faceva da padrone e infine ecco concludo con questa considerazione ovviamente si tratta di una sintesi di punti che poi riprenderemo e svolgeremo nel corso dell'anno scolastico ma questa è soltanto una lezione di introduzione generale la tendenza ecco alla disintegrazione sociale e comunitaria quindi il trionfo dell'individualismo sociale consumistico che oggi è assolutamente trionfante mi fermo qui vi auguro un buon anno e un buono studio e un buon anno